Una fila intera di capannoni dietro il market dell'Eurospin a Predanieda nella strada 11 è stata letteralmente divorata dalle fiamme di un incendio di proporzioni spaventose che ieri ha dapprima aggredito un deposito di condizionatori per poi papagarsi alla vicina fabbrica di cera e altri due immobili adiacenti. Tutto è iniziato verso le 17 di ieri, ma questa mattina il fumo continuava a uscire dalle macerie, mentre un imponente dispiegamento di uomini, circa una trentina, e di mezzi della compagnia provinciale dei Vigili del Fuoco, di Sassari, Oristano e Nuoro, sta continuando a raffreddare la zona per poi abbattere le strutture pericolanti e bonificare l'area. Intanto arrivano notizie positive per quanto riguarda le condizioni dei due Vigili del Fuoco investiti da una serranda sbalzata in avanti da un'esplosione di gas. I due uomini sono stati subito accompagnati al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto, oltre alle cinque squadre dei Vigili del Fuoco, a tre autobotti da 3.000 litri d'acqua ciascuno e a un mezzo aeroportuale erano presenti diverse pattuglie della polizia locale. Sgomberato tutto il piazzale tra l'Eurospin e Mauri si chiuse le attività commerciali che potrebbero riprendere in giornata per consentire la movimentazione dei mezzi pesanti antincegno e delle botti d'acqua del comune di Sassari. Nessun pericolo per il vicino distributore di carburante, separato dalla zona interessata dalle fiamme da uno slargo. Si procede ora alla verifica delle strutture distrutte e lesionate, per capire quali siano state le origini del rogo e per verificare la steticità degli edifici e eventualmente procedere alla demolizione e alla successiva bonifica dell'area.